Secondo l'indicazione del grande Francesco D'Assisi, nella lode al Signore all'attuale tutti quanti noi presenti ci associamo e diciamo «Laudato, sì, mi Signore, per frate Focu, per lo quale in allumini la notte, e te lo è bello, e tiucondo, e te robustioso, e te forti, per cui effetto si accende».